Questo video riguarda i migliori tre cuffie Sony. Il vincitore della qualità è il Sony WH-1000. Il nuovo processore integrato 1V massimizza il potenziale del processore di eliminazione del rumore HDQN1, la più grande innovazione nella nostra già leader tecnologia di eliminazione del rumore. Progettate con precisione per offrire un'eccezionale qualità di ascolto, anche in chiamata grazie alla tecnologia di rilevamento della voce e alla nuova struttura di riduzione del rumore del vento. L'Adaptive Sound Control regola automaticamente le impostazioni audio in base all'ambiente e all'attività e la funzione Speak to Chat mette automaticamente in pausa la musica quando vuoi parlare. Queste cuffie possono essere accoppiate con due dispositivi in contemporanea, con FastPair puoi localizzare le WH-1000XM5 se non riesci a trovarle e SwiftPair semplifica il pairing al tuo PC tablet. Con una durata della batteria fino a 30 ore, avrai abbastanza energia, anche per lunghi viaggi una custodia pieghevole inclusa con queste cuffie Sony per conservarle e trasportarle comodamente. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Sony WF-C500. Con il nuovo design ergonomico, questi auricolari compatti garantiscono un'aderenza perfetta. La custodia di ricarica piccolissima consente di ricaricare facilmente anche quando sei in viaggio. Con i pulsanti puoi riprodurre musica, regolare il volume, usare l'assistente vocale e chiamare. La confezione di WF-C500 e 100% Plastic Free, ha conferma del nostro impegno per l'ambiente. Le chiamate in viva voce sono ora più nitide che mai grazie al microfono integrato di alta qualità. Ricevi indicazioni, ascolta musica e chiama gli amici collegandoti all'assistente vocale. Con Fast Perdi Google, basta un tocco per l'associazione rapida Bluetooth con dispositivi Android. Collegati seguendo le istruzioni a comparsa visualizzate sui dispositivi Windows 10 nelle vicinanze. Il vincitore del premio è il Sony MDR-ZX-110. Porta queste cuffie ovunque tu vada. I padiglioni girevoli ti permettono di riporre facilmente le cuffie quando non le usi, per una migliore portabilità quando sei in viaggio. Sono inoltre pieghevoli e ingombrano pochissimo. Puoi metterli in valigia o in borsa senza che ti rubino spazio. Ascolta in totale comodità. Queste cuffie con archetto autoregolabile e morbidi padiglioni imbottiti coprono l'intero orecchio. Queste cuffie dal design chiuso avvolgono le orecchie, isolando il suono ed eliminando i rumori di fondo. L'ampia gamma di frequenza, che va da 12 Hz a 22 kHz, offre bassi profondi, medi dettagliati e alti nitidi. Cogli tutte le sfumature nei brani e vivi in armonia con la tua musica. I leggeri driver dinamici al neodimio da 30 mm offrono una risposta ritmica intensa e corposa anche per i brani più ricchi di sfumature. Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento.